Ben ritrovati anche per la pagina sportiva del TG Noia, allenamento all'Acquedotto oggi per la Lucchese che ha disputato una partitella contro la Berretti. La squadra di Baldini prepara il derby di domenica pomeriggio, ore 17.30, contro il Prato. Giovedì pomeriggio all'Acquedotto per la Lucchese che Baldini ha quasi il gran completo. Dosanto a Sartore, brasiliano finora non pervenuto, causa infortuni a disposizione. Bianconi fa passi da gigante e Calcani per aver smaltito la dolorosa botta alla caviglia. Mingazzini lavora a parte, seguito dal dottor Tambellini, ma dovrebbe recuperare. Ne consegue che il tecnico ha solo l'imbarazzo della scelta. Partitella in famiglia contro la Berretti per provare schemi e movimenti in vista del derby. Il secondo della serie di tre. Ci sarà poi la trasserta al Melani contro la Pistoiese. Alla luce dei recuperi e della classifica che si è venuta a creare, la sensazione diffusa è che tranne tre e quattro squadre il resto sia ampiamente rapportata e che quindi si possano cullare giustificate ambizioni. Ma quello verrà solo più avanti, ora al Pensiero e al Prato. Due punti in saccoccia, ma interlocutore pur sempre scomodo. E poi è pur sempre un derby. Una gara speciale per Jacopo Fanucchi. Eh sì, l'anno scorso ho passato un anno bello direi e quindi per me sarà sicuramente una partita un po' particolare, ma dopo cinque minuti le emozioni di giocare contro il Prato poi passerà sicuramente. Capitolo formazione. La Lucchese del sabato sera contro il Siena è piaciuta, nonostante lo 0-0 e sappiamo che avrebbe meritato la vittoria. Ergo non si può escludere anzi che Baldini opti per la conferma dell'undici schierato contro la Robur. Del resto il nuovo passetto con Mori e De Specie centrali, a scionga sinistra e non l'è riportato in mediana, è parso conferire maggiore equilibrio a tutto il complesso. Ancora un paio di allenamenti, compresa la rifinitura di sabato a porte chiuse prima di sciogliere gli ultimi dubbi, ammesso che Baldini ne abbia davvero. La polizia ha deferito all'autorità giudiziaria un 47enne tifoso della Lucchese, resosi responsabile in occasione dell'incontro casalingo con il Siena di sabato scorso del reato di possesso, utilizzo e lancio di artifici pirotecnici in occasione delle manifestazioni sportive. Le riprese del sistema di videosorveglianza dello stadio Porta Elisa hanno consentito alla Digost di individuare il responsabile nei confronti del quale quest'ora è emesso il DASPO per la durata di due anni. Mercoledì da Leoni per Viareggio e Ghiviborgo che hanno superato il turno preliminare di Coppa Italia della Lega Nazionale di Lettanti. I bianconeri si sono imposti 2-0 sui Liguri della Fezzanese nella gara giocata a Sarzana. Un Viareggio in versione Bebi si è imposto 2-0 grazie alle reti di Alagia e di Rosa Gastaldo su rigore. Casomare rovinare un po' la giornata, l'infortunio alla caviglia del piede sinistro occorso al centrocampista Alberto Reccolani, la cui presenza a questo punto è in forte dubbio per la trasserta di Ponsacco. È andato bene anche il Ghiviborgo che è passato a Montecatini 4-2 dopo i calci di rigore. La partita si era conclusa sullo 0-0 al novantesimo a guidare il bianco-rosso-azzurri. Nell'occasione è stato l'allenatore in seconda a Bolognesi, visto che Pacifico Fanani era assente per il grave lutto familiare che lo ha colpito proprio in questi giorni. Domenica prossima, ricordiamo, Angeli e compagni saranno di scena sul campo, sul difficile campo del Sansepolcro. Ancora risultati lusinghieri per i portacolori del gruppo sportivo Recchiela Garfagnana. In particolare Francesca Settia, conferma dell'ottimo finale di stagione, ha colto un eccellente secondo posto a Sarzana nel secondo memoria a Luca Scattina. La Settia è stata preceduta di soli 10 secondi dalla forte Claudia Strella dell'Atletica Castello. Ed ora torniamo sulla finale oro di pochi giorni fa Iesolo, che ha visto la Virtus conquistare uno storico settimo posto e la permanenza dunque nella massima categoria. Questo servizio abbiamo un po' fatto le pagelle a quelli che sono stati i protagonisti. E' finita così, sul prato dell'Armando Picchi di Iesolo, la Virtus a godersi un fantastico settimo posto, che alla luce di qualche assenza pesante si può considerare davvero un traguardo magnifico. 55 punti, 8 in più del 2014. Proviamo allora a fare le pagelle alla squadra virtussina, ora che i giochi sono fatti e che la finale oro 2016 è già garantita. Allora il voto più alto, 8, lo meritano indiscutibilmente Luca Giangravè, Osea Chisorio Chimeli e Michele Speri. Giangravè è stato magnifico, portando complessivamente 10 punti, 3 sui 400 e 7 sui 400 ostacoli, la sua specialità, dove si è dovuto inchinare solo all'atleta della Riccardi Milano. Il keniano Chisorio, addirittura 13, dato che è 7 del secondo posto sui 3.000 siepi, ha saputo aggiungere i 6 sui 5.000. Un Chisorio sinonimo di garanzia assoluta. Sulle siepi, e gli diamo un bel 7, si è distinto anche il giovanissimo Saeed Etachi, quinto assoluto, miglioramento cronometrico e contributo di 4 punti alla causa. Poi Saeed si è sacrificato anche sui 5.000. Che dire poi di un monumentale Michele Speri? L'atleta di Desenzano sul Garda, allievo di Giulio Ciotti, è salito nell'alto fino a 2.06 con il nuovo primato personale e ha ottenuto un quinto posto che vale come una vittoria. Un bel 6,5 lo diamo con piacere anche alle due staffette, 4x100 e 4x400, dove si è in parte ritrovato Alessandro Orsi, non al meglio della condizione fisica e sottotono nella gara individuale. Stesso voto che attribuiamo allo stoico Giuseppe Marchiselli nella marcia a 10 km. Una formidabile gara tattica con recupero nel finale, settimo posto. Chapeau! Un bel 6 di stime e di incoraggiamento fate voi a tutti gli altri, con una citazione particolare per due giovani. Nell'asta Pietro Damiani si è trovato a sostituire all'ultimo momento Vianello e ha provato a fare del suo meglio. Nel mezzofondo Marco Scantamburlo è piaciuto più sugli 800, forse la sua vera distanza, che non sui 1.500. Infine un bel 10 e lode a tutta la società, dal presidente Montinari agli altri dirigenti e al direttore tecnico Matteo Martinelli, che dopo anni di sofferenza, una gioia così, se la meritava davvero tutta. È appena spenta la eco della finale oro di Jesolo, che già ci si proietta al prossimo anno. Nel 2016 l'atto finale del campionato di società squadre si svolgerà infatti a Milano, dove peraltro si era già disputato nel 2015. Una ghiotta occasione per la Virtus Cassa di Risparmio di Lucchia di vendicare l'amaro nono posto conseguito lo scorso anno all'Arena Civica. Il ciclismo, nuovo appuntamento sulle strade cinesi per il team Amore e Vita, impegnato nel Tour of China, primo e secondo atto, grande obiettivo stagionale della formazione di Ivano e Cristian Fanini. La prima parte della prestigiosa corsa asiatica prenderà il via domani con la Shining Shining di 110 km e si concluderà venerdì 9 ottobre. In assi di partenza, agli ordini del direttore sportivo Giorgini saranno presenti Gavazzi, Zampilli, Bani, Lunardon, Alilagi e Martins. Fervono gli ultimi preparativi, ancora ciclismo, da parte degli organizzatori del pedale lucchese Poli e del cycling team Lucca per la ciclopedalata di sabato prossimo denominata Forza Alessandro. 160 km da Lucca fino a Monte Catone, dove alla fine i partecipanti incontreranno appunto questo sfortunato ragazzo in onore del quale è stata organizzata la ciclopedalata. Passo della Fute, passo della Raticosa, da scalare prima del traguardo finale. Un pulma riporterà a Lucca i partecipanti. Ancora soddisfazioni per il tiro a segno Lucca. Tre giovani lucchesi sono stati infatti selezionati in vista delle qualificazioni per le Olimpiadi giovanili che si svolgeranno a Buenos Aires nel 2018. Si tratta di Michele Bernardi, Niccolò Biagini ed Elena Pizzi, rispettivamente di 13, 14 e 15 anni, che faranno parte di un ristretto gruppo di preparazione che il CONI ha istituito per l'impegno olimpico. Manco a dirlo, soddisfazione ed orgoglio per la tradizione del tiro lucchese. E con il tiro a segno si chiude anche la pagina sportiva di questa serie. Vi ringrazio per l'ascolto. Dopo una breve pausa pubblicitaria ci ritroviamo però per la terza ed ultima parte.